Cari amici, rieccoci qui in una nuova clip, ovviamente non potevo non parlare del risultato straordinario della nostra Jasmine Paulini in quel di Wimbledon dove ieri ha battuto senza storia per 2-7-0 una vago ed è volata in semifinale dei championships dove almeno sulla carta è favorita per poi accedere alla finalissima dove chissà potrebbe trovare la rimagina che sarebbe uno scoglio grande, però non la sporta mai dire mai. Sinner si è dovuto arrendere sotto gli ostacoli di Nedvedev in giornata, ovviamente Sinner ha avuto purtroppo dei capogiri e quindi ha onorato l'impegno fino alla fine al daybreak al quinto set ma non ce l'ha fatta. Oggi abbiamo un CT contro Fritz, quindi il tennis italiano sia maschile che femminile continua a portare in alto la bandiera italiana. una piccola parentesi sul calcio oggi, sorteggio dal calendario di Serie B il campionato cadetto Spagna prima finalista, questa sera Olanda-Inghilterra, bene noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti ho riattivato la comune di qui su youtube, ciao!